Stiamo tornando a ballare, siamo in salita, siamo stanchissimi, sono veramente stanco. Stavo una bella serata come quella di ieri sera, gli altri mi hanno distaccato. Oh fate un gesto che sto facendo un video! C'è parte la poila, questo è Davide Melli, questa sera è stato molto bravo. Puoi dire qualcosa? Bravo! Mi fatti cazzare, chiede Luca se devi dire qualcosa. Luca, devi dire qualcosa! Puoi dire qualcosa domani, andiamo a vedere il Madri di Levante. Un 18-0 strategico sicuro, salita ricordiamocela, cestini, macchina, palla della luce, Melli, Luca, ancora Melli. Melli vorrebbe dire qualcosa che ci sta ascoltando in questo momento. Cipacabras! Cipacabras, cipacabras è la cosa più migliore che so dire.